salve a tutti oggi voglio darvi qualche spunto sul cheesecake che avevamo fatto il video l'altra volta come torta cheesecake adesso per fare nei bicchieri come da ristorante allora prendiamo i biscotti con il burro che già sapete fare perché li avete visti sul video questa è un'idea anche per casa eh guarda nei biscotti con un po' di burro scolto appiattiamo adesso prendiamo l'impasto dei nostri steak con la salsa dei frutti di bosco che ho fatto anche nel video la mettiamo in mente e la facciamo colare un po' ai laggi questa potrebbe essere un'idea anche per casa se avete degli ospiti con un minuto inizipata di due inizipata da un'idea anche per la zona di Ok, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video Ciao